Circa un centinaio alle richieste di costituzione di parte civile. Si è conclusa così l'udienza preliminare del processo che vede ancora una volta sotto accusa l'ex presidente della vecchia Banca Etruria Giuseppe Fornasari, l'ex direttore generale Luca Bronchi ed infine il funzionario David Canestri. Il capo di imputazione in questo caso è falso in prospetto relativo al collocamento nel 2013 delle famigerate obbligazioni subordinate diventate poi carta straccia a seguito del decreto salvabanche. Sono oltre 90 bondisti rappresentati da Conf Consumatori. Conf Consumatori non solo ha curato la costituzione di giudizio dei propri associati, ma anche in questo processo ha chiesto riconoscimento come del danno proprio in un momento esponenziale che si occupa principalmente e prevalentemente della tutela dei risparmi e dei risparmiatori. Perché è un reato che va a minare quella che è il buon andamento, la trasparenza dei mercati finanziari. Mettere dei titoli finanziari che vanno nelle mani delle famiglie, dei risparmiatori italiani con prospetti falsi è un fatto gravissimo, che crea un allarme economico-sociale di particolare importanza a livello italiano e ha provocato in capo all'associazione anche un aggravio di lavoro, di costi, richiesti non solo per la tutela degli associati numerosi, centinaia e centinaia, del caso Etruria, ma in generale un'attenzione maggiore dal 2015 in poi in quelli che sono i prospetti informativi delle obbligazioni subordinate. Secondo l'accusa sostenuta dal pool di magistrati che si occupa del crack di Banca Etruria guidato dal procuratore capo di Arezzo Roberto Rossi, i risparmiatori al momento della sottoscrizione dei titoli non sarebbero stati informati correttamente sulla reale situazione dell'Istituto di Credito Aretino. La prossima udienza è stata fissata per il 22 febbraio 2019 per consentire così l'esame delle richieste.